Sono ormai troppi anni che i cittadini materani vivono con angoscia il ciclo dei rifiuti e nessuna amministrazione che io ricordi da 30 anni a questa parte ha voluto affrontare correttamente il ciclo delle merci e lo smaltimento corretto dei rifiuti. Non si fa bene la raccolta differenziata, non si informano bene i cittadini, si smaltiscono male. Oggi alla Martella, ma ormai da anni ci sono colline nuove di immondizia, di porcherie, di veleni. Queste colline lì resteranno per i secoli prossimi. Noi lasciamo ai nostri figli e ai nostri impoti un'eredità terribile perché si affronta male il ciclo delle merci. La regione basilicata dovrà pagare all'Unione Europea milioni di euro di multa per lo schifo anche di la Martella. Non c'è nessuna volontà di cambiare. Sul ciclo dei rifiuti ci sono le mafie serie.